Ciao Marco, come va? Bene, tutto a posto, guarda che figata di serata Milano Notting Festival, quest'anno come ti sembra? Molto meglio, devo essere sincero, negli ultimi anni era calato un po' però quest'anno davvero una bella organizzazione, bella animazione, si è visto prima, molto bello, tutto bello Gli altri anni non era Milano Notting Festival, quest'anno è la seconda edizione di Milano Notting Festival nuova gestione, quindi ci sono i frutti Esatto, questa è la differenza cioè man mano che si va avanti bisogna sempre cercare di migliorare che era quello che non era successo prima mentre invece adesso ogni anno miglioriamo e questa è la cosa migliore per noi che balliamo è la cosa migliore Marco, un messaggio a tutti coloro che vorranno venire a visitare Milano Notting Festival? Assolutamente, di venire, quest'anno costa davvero poco si mangia bene, si balla bene, l'animazione è fantastica quindi quest'anno non si può mancare Quanto ci sarai tu? Noi sempre, venerdì e domenica siamo sempre qua con tutto il gruppo Grazie Marco Grazie a tutti Grazie a tutti